Ciao trader e benvenuti a questo nuovo episodio, era un po' che non registravo un video di pura analisi tecnica, pattern armonici e fibonacci trading era un po' di tempo e mi mancava, quindi eccoci qua, vediamo come iniziare la nostra settimana è stata una settimana, queste ultime due settimane hanno un po' fermato quello che sembrava stesse accadendo sui mercati del pound e dello yen infatti sembrava che questi due mercati dovessero, queste due valute dovessero un po' ribaltare i loro movimenti invece così non è stato, dopo un inizio di trend inverso è tutto tornato come sembrava si muovesse prima ed in particolare quindi le valute su cui, i cross su cui voglio prestare la mia attenzione sono proprio quelli dedicati al pound vedremo quindi, cominciamo da qui, guardate ho qui aperto pound nei confronti del dollaro neozelandese sul settimanale guardate che cosa è successo qua, qui è successo questo impulso, primo impulso ribassista seguito poi da un outside return eccolo qui e se andiamo a vedere come al solito andiamo a misurare un attimo con fibonacci il movimento che c'è stato sul mercato dovremmo vedere sicuramente un ritracciamento che supera il 38,2, no in realtà non lo supera, lo sfiora quasi se andiamo a considerare questo spike, se invece andiamo a considerare i massimi questa è stata una candela un po' particolare del 24 agosto del 2015, ricorderete c'è stato il flash crash sui mercati quindi non la terrei così tanto in considerazione, se invece appunto mi vado a mettere sui massimi di queste candele guardate dove si ferma questo pullback, proprio sul 38,2 e poi che succede? Nuovo impulso ribassista, guardate copio e incollo questa linea per farvi vedere quanta armonia in questo movimento guardate come questo secondo impulso è praticamente identico al primo in termini di profondità infatti andiamo a usare sempre fibonacci ma questa volta come inversione di tendenza quindi dallo swing low allo swing high e vedrete che guardate proprio sul 161,8 si appoggia il nostro movimento quindi qui abbiamo a tutti gli effetti un ABCD pattern ormai completato che cosa ci possiamo aspettare adesso? Allora andando a leggere il mercato due cose noto prima di tutto ci possiamo aspettare un pullback quindi c'è stato il primo movimento a cui è seguito un pullback secondo movimento a cui potrebbe seguire un nuovo pullback quindi mi aspetto un pullback che potrebbe arrivare dove? Orientativamente intorno al livello 38,2 di nuovo quindi diciamo tra il 38,2 e il 50 me lo aspetto lì per quale motivo? perché andando a leggere il mercato vedo anche che cosa? Vedo che qui c'è una struttura di prezzo quindi che avvalora l'ipotesi quindi ci potrebbe essere questo ritracciamento ma il secondo come sapete io cerco sempre di trovare un vantaggio statistico sui mercati quindi più di un segnale che mi viene dato dal mercato e che soprattutto avvalora la mia ipotesi e il segnale eccolo qua guardate questo bel doppio minimo guardate che doppio minimo sul settimanale è molto potente vedete come i prezzi non sono mai scesi sotto a questi minimi ci sono andati una volta, sono tornati indietro di nuovo e il prezzo sembra proprio che stia rimbalzando quindi usa questi prezzi come supporto per fare questo pullback e poi che cosa? E poi decidere se continuare e tornare in verso la zona a 2.057 oppure se continuare il trend ribassista quindi un momento di outside return per poi continuare il movimento quindi vedete che le cose sono i segnali tecnici di Fibonacci anche ci danno segnali molto precisi su questo mercato andiamo a vedere poi il pound nei confronti del dollaro, il cosiddetto cable vedete qua stiamo sul settimanale e qui anche che cosa è successo? si è formato sul settimanale questo bel doppio minimo di nuovo vedete questa candela verde che comunque non è riuscita a superare che cosa? a superare il movimento, il minimo precedente di questa candela qua infatti vedete che la chiusura è più in alto si è formato questo doppio minimo, adesso il prezzo sembrerebbe tornare indietro e allora che facciamo? Scendiamo sul giornaliero e andiamo a vedere sul giornaliero che cosa sta succedendo perché vedete che qui abbiamo un movimento piuttosto laterale in cui i mercati stanno comprimendo quindi ipotesi o meglio un momento perfetto per la creazione di che cosa? di pattern armonici e infatti qua occhio fatemi tracciare un po' di linee di Fibonacci perché voglio proprio vedere allora qui ci siamo, tocca il 38,2 fatemi vedere solo se ci siamo anche con il da A a B ok, perfetto qui abbiamo un bel pattern armonico un cypher per l'esattezza eccolo qui, da XA e da A a B e poi ancora da B a C e infine da C a D bene, quindi qui abbiamo il nostro pattern armonico un cypher ribassista e vedete che il prezzo infatti quando ha toccato questi valori vedete che poi è ritracciato qui avremo posizionato il nostro take profit all'incirca da queste parti dico all'incirca ragazzi perché non è questo un servizio di segnali quindi non è il mio obiettivo con questi video di farvi, di dirvi esattamente quando entrare al mercato quando uscire dal mercato ma semplicemente farvi vedere come approcciare il mercato al fine di trovarsi opportunità di business quindi questi video prendeteli come spunti didattici assolutamente io voglio in questo essere di supporto e aiutarvi a creare una certa sensibilità quando vedete i mercati che cosa che è successo qua invece? guardate, è molto più piccolo questo pattern ma anche questo ci sta quindi da XA qui tocca il 61.8 ma non chiude non chiude oltre e quindi siamo si è formato un secondo pattern molto più piccolino questo da XA ad AB poi B, C e non è ancora formato dobbiamo aspettare il ritracciamento tra il 78.6 e il 127 questo è un Gartley quindi sarà un po' più sopra il nostro completamento quindi adesso rimaniamo sicuramente in attesa stavo guardando che qui ce n'è un altro molto interessante fatemi un attimo tracciare un po' di linee da XA qui ok il 50 quindi c'è un bel bad pattern guardate in questa solo valutando questo pezzo di mercato quante opportunità abbiamo effettivamente trovato da qui al 78.6 e qui c'è il completamento quindi abbiamo trovato 1, 2, 3 pattern armonici sul cable pound dollaro americano e infine andiamo a vedere un secondo anche pound yen volevo un attimo vedere che cosa stava succedendo qui c'è stato questo primo impulso guardate impulso rialzista questo grosso impulso rialzista poi il tornato indietro il prezzo un pullback poi è approvato ma è rimasto fermo e non a caso guardate dove si è fermato il prezzo guardate la struttura precedente vedete che questo pullback è andato ad appoggiarsi su quella che prima era stata una resistenza adesso è diventato un supporto adesso non è riuscito a proseguire ha creato questo doppio massimo qui è tornato un po' indietro adesso quello che ci potremmo aspettare è che questo sia un pullback un pullback di un ABC di pattern scusate e quello che ci possiamo aspettare è di vedere un bel secondo impulso quello che potremmo aspettarci di vedere le nostre sono solo ipotesi che cerchiamo di avvalorare con quello che ci dice il grafico quindi un secondo bel impulso che se fosse veramente un ABC di pattern potrebbe arrivare tra il 141 e il 168 ma io in maniera più prudente mi aspetterei un ritracciamento intorno a questi valori quindi occhi aperti anche su questo cross poi ragazzi ultima cosa che volevo farvi vedere sull'oro in particolare sul CFD quindi mercato XAUUSD perché qui si era formato un bel test e spalle che avevo segnalato nella newsletter di analisi tecnica mi raccomando se non siete ancora iscritti trovate nella descrizione di questo sito i link per iscrivervi alla newsletter di analisi tecnica ogni settimana mando degli studi sui mercati delle materie prime mercati valutari e il mercato azionario lasciate basta cliccare sul link lasciare le vostre mail e ogni settimana vi arriverà gratuitamente uno studio e inoltre se non l'avete ancora fatto fate clic su subscribe sempre sotto a questo video in questo modo verrete avvisati e notificati ogni volta pubblicherò un nuovo video cerco di pubblicarne almeno tre a settimana se vi piacciono video di questo tipo in cui faccio analisi tecnica molto nuda e cruda senza girare troppo intorno e fare troppi discorsi fatemelo sapere in che modo mettetemi un bel like in modo tale che capisco è l'unico modo per raccogliere feedback da parte vostra e capire che questo tipo di video vi piacciono e continuerò a farne sempre di più viceversa se volete confrontarvi e lasciarmi magari nei commenti quello che è un vostro studio o qualcosa che volete chiedermi o un sottostante un mercato particolare che volete analizzi nel prossimo video lasciatemi un commento non vi preoccupate rispondo sempre a tutti bene qui sull'oro che cosa sta succedendo si è formato sul dopo vedete questo bel test e spalle test e spalle che era stato rotto guardate questa neckline questo è stato uno degli studi più interessanti diciamo di inizio 2016 perché o meglio scusate di fine 2016 dopo questa rottura vedete il mercato come si è andato praticamente a prendere il profitto esatto è andato ben più ben oltre il profitto che da strategia avremmo avrei impostato quindi perfetto dopo il breakout vedete il prezzo non è più tornato indietro è sceso adesso ha fatto un primo impulso rialzista outside return quindi un pullback di mercato un nuovo massimo che è stato creato vedete è stata rotta questa struttura di prezzi e questa qui e che cosa ha creato adesso l'oro ha creato qui stiamo sempre sul cfd ragazzi dell'oro quindi non stiamo sulla materia prima eccolo qui questo doppio massimo sul giornaliero molto piccolino ma lo possiamo andare a vedere sul 4 ore eccolo qua un po' più ampio e in particolare vorrei andare a vedere sapete che io non sono per niente un fan degli indicatori perché a me quello che mi piace vedere e studiare per capire i mercati è quello che vedo con la price action dei grafici però ogni tanto mi faccio aiutare in particolare dall'RSI in queste situazioni per vedere qual è la forza del mercato e vedete che qua nonostante i prezzi abbiano creato questo doppio massimo che cosa vedo? vedo che il valore dell'RSI scusate volevo disegnare la linea il valore dell'RSI è diminuito quindi siamo in una situazione di divergenza dell'RSI che a valora mi dà un diciamo un vantaggio statistico nel pensare che questo doppio massimo possa trovare il movimento che cerco infatti vedete che c'è stata questa prima candela e poi la settimana ha chiuso con questa seconda candela molto pronunciata e quindi sembrerebbe proprio che il prezzo stia andando nella direzione che il pattern doppio massimo di solito ci fa vedere ci dà come indicazione insomma e dove potrebbe arrivare innanzitutto vedo traccio questa prima resistenza quindi guardo a sinistra e che cosa vedo a sinistra vedo questa struttura di prezzi molto importante che qua ha funzionato da resistenza qui un pochino da supporto da supporto ancora qui e determina il vertice del nostro doppio massimo quindi sicuramente questo è il primo livello di prezzo a cui potrei vedere puntare arrivare il nostro mercato spot bene ragazzi di nuovo è tutto per oggi volevo farvi un un video di analisi di analisi come non ne facevo da qualche da qualche giorno come al solito mettetemi like se vi piacciono questi video lasciatemi un commento non siate timidi noi ci vediamo prestissimo e vi auguro una fantastica settimana di trading ciao a tutti